bentornato gutier bentornata iniziamo a vedere da vicino le funzionalità di windows 8.1 ti ricordo nella versione update per quel che riguarda la schermata start se già sei passato sei passata per windows 8 l'interfaccia a piastelle certamente la conosci al contrario se invece vieni da windows 7 ti troverai di certo un po spaesato un po spaesata l'impatto con l'interfaccia a piastrelle della schermata start può lasciarti un po impacciato non ti preoccupare il desktop non è scomparso ti ricordi il pulsante start normalmente in basso a sinistra del tuo monitor nelle precedenti versioni di windows bene ora vedi esattamente la sua rappresentazione grafica che appunto chiamata schermata start in questo scenario può inserire quello che normalmente più utilizzi infatti la versatilità credo sia il suo punto di forza anche se a molti non piace me compreso all'inizio osserva i pulsanti che ti trovi davanti su di uno c'è scritto appunto desktop se ci clicchi sopra vedrai appunto il desktop altra possibilità per accedere al desktop è premere contemporaneamente i tasti windows più di infine ultima possibilità dalla schermata start sposta il mouse nel vertice in basso a sinistra del monitor cliccaci sopra con il tasto destro del mouse comparirà un menu in esso troverai appunto il pulsante desktop oltre ad altri pulsanti bene clicca sul pulsante desktop ed ecco a te presentata appunto la schermata desktop che almeno un po riconosci tornando a parlare della schermata start invece puoi visionare ed avviare alcune applicazioni programmi semplicemente cliccandoci sopra anche ridimensionare spostare i pulsanti a tuo piacere rientra nella possibilità nella versatilità della schermata start non visionerai però tutti i programmi installati nel sistema operativo in questa schermata infatti per fare ciò dovrai individuare la freccia che normalmente è posizionata verso il basso cliccandoci sopra avrai mostrata una visuale tipo questa visionerai così molti più programmi cliccando sopra ogni icona pulsante con il tasto destro del mouse si aprirà un menu che ti permetterà di interagire con lo stesso e quindi con il programma come hai visto descritto nella lezione 135 e il rispettivo video tutorial quindi potrai interagire con il pulsante con il programma stesso dalla lista dei programmi evidenziata potrai anche scegliere un ordinamento a piacere o per nome o per data di installazione o frequenza di utilizzo oppure per categorie io personalmente utilizzo quello per nome quindi per ordine alfabetico altra cosa che puoi notare in questa schermata è il nome dell'account di accesso al sistema operativo e l'immagine che puoi personalizzare quindi cliccando su questa icona questo è il menu che si presenta cliccando sul pulsante cambia immagine naturalmente potrai entrare nella zona che ti permetterà di personalizzare l'immagine che meglio rappresenta il tuo account accederai appunto alla sezione relativa che può ricalcare quanto spiegato nella lezione 97 e video tutorial correlato il pulsante accanto ti permetterà di riavviare o spegnere il pc infatti dal menu in base alla scelta che vorrai interagendo con la stessa potrai decidere se riavviare o spegnere il computer altro pulsante che trovi il pulsante ricerca che in realtà è un campo all'interno del quale potrai scrivere le parole chiavi per eseguire le tue ricerche ricerche che potrai eseguire ovunque oppure all'interno della sezione delle impostazioni oppure ricercare determinati file quindi potrai filtrare la ricerca in base a dei parametri ora una cosa che potrai visionare in qualsiasi momento sia la chance bar indipendentemente dalla visualizzazione in cui ti trovi premendo contemporaneamente i tasti win più c ti comparirà una finestra più o meno al centro verso il basso ed una barra laterale appunto chiamata chance bar qui rappresentata in questo screenshot la chamber bar e una finestra come detto in basso a sinistra circa la sezione centrale appunto ti potrà mostrare data ora lo stato della tua connessione ed eventualmente qualora tu avessi un notebook anche lo stato di carica della batteria la sezione di testa della barra ti mostra alcuni pulsanti attivi ricerca condivisione start dispositivi e impostazioni il pulsante ricerca equivale a quanto detto precedentemente invece la sezione condividi ti dà la possibilità di condividere rapidamente dei contenuti con qualcuno oppure in vario modo cliccando col pulsante start invece tornerai alla visualizzazione della schermata start appunto invece tramite il pulsante dispositivi puoi gestire alcune funzionalità dei dispositivi installati sul tuo computer infine il pulsante impostazioni ti permette di entrare una zona ampia in cui potrai gestire personalizzare variare delle impostazioni del sistema operativo e anche dell'hardware queste funzioni le ritroverai comunque nel pannello di controllo che più o meno equivale mediamente a quanto mostrato nella sezione della descrizione del pannello di controllo per il sistema operativo windows 7 che nel dettaglio parte dalla lezione 96 e seguenti e i relativi video tutorial comunque un'altra cosa sul sito della microsoft potrai trovare ampio spazio didattico a riguardo ecco di appunto un paio di pagine dedicate alla spiegazione della schermata start con brevi video tutorial annessi link che riporterò alla fine di questo video tutorial allora guter eccoci qui nella schermata interfaccia a piastrelle chiamate start come puoi vedere c'è un ridotto numero di icone ma icone che puoi implementare in visualizzazione tramite questo pulsante che ti permetterà di visionare un maggior numero di programmi installati sul computer anche se non tutti naturalmente su ogni icona hai la possibilità di interagire cliccando con il pulsante destro e dal menu che si genera interagire con lo stesso come rimuovere questo pulsante questa icona dalla schermata start oppure aggiungerlo alla barra di applicazione oppure entrare nella schermata nella sezione che ti permetterà di disinstallare il singolo programma oppure ridimensionare questo pulsante in vario modo o in posizione media o ancora di più oppure ingrandirlo al massimo o ancora attivare o disattivare l'animazione qualora questo determinato pulsante abbia in sé la possibilità di rappresentare delle informazioni come vedi altri pulsanti in questa zona nel momento in cui vai a cliccare su uno dei pulsanti naturalmente entrerai nell'applicazione relativa a questo determinato pulsante ma nel dettaglio andiamo a posizionarci sul pulsante desktop e cliccandoci sopra avrai la visualizzazione del desktop come più o meno lo ricordi nella precedente versione del sistema operativo in basso a sinistra trovi un pulsante che sostituisce di fatto il pulsante start nelle precedenti versioni cliccandoci con il pulsante desktop del mouse si apre un menu con vari pulsanti quello che ci interessa è la possibilità di poter visionare naturalmente il desktop qualora stessi nella schermata start come puoi vedere è possibile passare dalla visualizzazione start a desktop cliccando semplicemente su questo pulsante in basso trovi come già ben sai la barra delle applicazioni altra possibilità di entrare nella schermata start è premere contemporaneamente il tasto windows più D e da questa schermata puoi ritornare alla schermata start semplicemente cliccando il pulsante windows alternandolo anche in questo caso come puoi vedere qui trovi in alto a destra dei pulsanti il pulsante dell'icona ti permette di aprire un menu e cambiare l'immagine che ti rappresenta una volta che entri nella sezione relativa al tuo account quindi potrai sfogliare e trovare un'immagine che meglio ti rappresenta oltre ad altre possibilità come quella di creare un'immagine direttamente da una fotocamera se fosse collegata oppure accedendo ai contatti torniamo indietro e andiamo a visualizzare altre opzioni il pulsante blocca ti permetterà di bloccare il desktop qualora ti allontanassi momentaneamente invece il pulsante esci ti permette di disconnettere il tuo accesso per poter rientrare in seguito accanto a questo pulsante trovi il pulsante che ti permetterà di sospendere la sessione di lavoro oppure spegnere definitivamente il sistema il computer o infine riavviare il pc altra sezione quella del pulsante cerca che ti permetterà di eseguire una ricerca all'interno del tuo computer o parzializzarla all'interno delle impostazioni o dei file qui non ti resta che scrivere le parole chiavi con le quali poter eseguire la tua ricerca altra cosa che puoi ottenere o in visualizzazione della schermata start oppure in visualizzazione desktop è la visualizzazione della charge bar sia se ti trovi come detto in visualizzazione start che desktop premendo contemporaneamente il tasto windows e il tasto c ti comparirà una sezione in basso a sinistra dove vengono riportati i parametri di data ora e lo stato di connessione sul lato destro troverai la charge bar che ti permetterà di accedere ad altre sezioni ad esempio il pulsante start ti riporta alla schermata start charge bar che tra l'altro puoi anche portare in visione spostando il mouse in alto a destra nel vertice in alto a destra hai la possibilità di effettuare una ricerca come detto in precedenza oppure cliccando sul pulsante condivisione andare a condividere alcune operazioni che stai eseguendo con qualcuno o tramite qualche applicazione il tasto dispositivi ti permetterà di interagire con alcuni dei dispositivi che sono installati ad esempio se tu hai un doppio monito da questa sezione potrai scegliere come ottenere una visualizzazione del tuo schermo se duplicando la visualizzazione magari se stai proiettando su un proiettore o estendere la visualizzazione su due monitor oppure visualizzare soltanto il secondo schermo ultima sezione della charge bar sono le impostazioni qui hai la possibilità di interagire entrando all'interno del cuore del sistema operativo impostazioni che vedremo più avanti altro pulsante che trovi in basso a destra ti permetterà di ridimensionare in miniatura tutta la schermata start qualora tu avessi molte icone in questa sezione tramite questa barra hai l'opportunità di spostarti qualora ci fossero molte altre più icone in rappresentazioni cliccando con il pulsante test in una zona pulita della schermata start si apre il pulsante e assegna nomi ai gruppi in pratica potrai scegliere di denominare le varie sezioni della schermata start cliccando di nuovo vai ad interrompere l'assegnazione dei nomi ai gruppi ultima cosa tornando alla lista delle applicazioni qui puoi ordinare le applicazioni in visualizzazione o per il nome o per la data di installazione per frequenza di utilizzo oppure in base alla categoria bene nella prossima lezione ti parlerò nel dettaglio del desktop ora un forte saluto come sempre ciao a presto da gallo e dalla prossima a presto